Il progetto si chiama Educare all'immagine e nasce dall'idea di far scoprire i segreti del cinema ai bambini di 5 anni. Gli obiettivi sono educare i bambini alla visione di nuovi cortometraggi e poi farli divertire approcciandoli al cinema in modo divertente. Lasciamo molto spazio all'immaginazione. La cosa importante per i bambini è poter creare mentalmente delle immagini senza avere già dei riferimenti dati. È importante fare formazione ai ragazzi in questo ambito perché permette loro di imparare a riconoscere le proprie emozioni, a gestirle e veicolarle, esprimerle attraverso altri linguaggi, ad esempio quello artistico in questo caso. Grazie. Grazie.